Sicuramente non abbiamo cominciato bene questa Champions, però credo che dopo abbiamo fatto un punto molto importante a Torino, serve per riscattarci di quell'inizio con il Real Madrid e di andare avanti. Sappiamo che queste due partite sono molto importanti, con tutto il rispetto di Copenaghe ovviamente perché anche loro sono una grande squadra, abbiamo la qualità e la capacità di vincere e cercheremo l'obiettivo quello di che sarà domani. Non è un problema, perché io ho già avuto due anni con loro, quindi conosco bene, sono ciò che possono fare in questo ruolo, quindi non ha fatto nulla. Non è un problema che mi ha cambiato, perché sono due setti anni fa, sono tutti i due anni, perché mi ha fatto un problema, non mi ha fatto un problema, non mi ha fatto un problema. Oggi